VAMO! Santo Padre! Calma! Che cosa è successo? Notizie terribili dalla Grezia! Dalla Grezia? Guardate questa ragazza! Bella! Sì! È vergine! Brava! Ed è incinta! Vergine! Ed incinta! È credibile! È un miracolo! Tu ti devono vedrello? Ma lo vedremo? Dove? Ad antenna! Oh! Parthena Zoe è riferente sull' antenna! Miracolo! Grazie! 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 Grazie a tutti.